Allora ragazzi, breve riassunto e recap della settimana dal punto di vista del trading online, quindi sul mio account demo su Interactive Broker e quelle che sono le opzioni che sono adattato a vendere questa settimana e le operazioni che ho fatto. Principalmente mi sono mosso su Netflix, per quello ho aperto questo grafico su TradingView. Netflix che ha finito, ha chiuso il mercato a 258 dollari circa. Io avevo venduto due opzioni con Strike a 250 dollari, quindi anche questa settimana dopo vi faccio vedere il risultato finale del portafoglio e dell'andamento di come sta andando su Interactive Broker stesso è andata appunto bene. Anche se devo dirvi che con il fatto che il mercato in generale è a ribasso, tutto il Nasdaq a ribasso, diciamo che la strategia tiene abbastanza anche su questo mercato a ribasso. Non ho ancora visto un crollo proprio verticale, altrimenti la situazione sarebbe stata più difficile in effetti. Però in effetti è tutto in discesa, quindi andare poi a continuare a fare profitto con un mercato a ribasso direi che non è male. Vorrebbe dire che prima o poi il mercato comunque andrà a cambiare. Adesso potrebbe anche durare mesi e mesi questo ribasso, perché abbiamo visto specialmente nel Nasdaq salire per anni e quindi ci sta appunto un ritracciamento verso il basso. In ogni caso sto riuscendo ad avere profitto anche da questa situazione, applicando appunto quella che è la strategia. E ho venduto con uno strike a 150, quindi non so se si vede ma ero qui. E in settimana è andato esattamente a toccarlo e poi rimbalzare verso l'alto. Vediamo, è stato il 20 novembre. E poi a risalire. Siccome era sceso in modo molto veloce, onestamente non ero online in quel momento, perché non controllo continuamente. E quindi in ogni caso avrei lasciato assegnare le opzioni, in questo caso le azioni di Netflix. In ogni caso non sarebbe andata male anche se fossi stato assegnato, perché poi il prezzo comunque è andato a risalire, quindi sarei potuto rientrare. Però ecco, non è che va sempre così. Però mi ero messo con un margine bello alto, perché all'inizio di settimana eravamo molto più alti. Appunto già il 19 ha aperto comunque un ribasso, ma il prezzo era molto più alto. Io mettendolo a 250 pensavo di essere ben sicuro. E invece sono andato a toccarli, quindi anche un piccolo rischio. In ogni caso vi voglio far vedere un pizzico di analisi tecnica, dove siamo andati comunque in ipervenduto su quello che è Netflix. Proprio analizzando cose banali vediamo che siamo andati un po' in ipervenduto, anche se poi non si sono ancora incrociate le due medie mobili. Quella veloce e quella a 20 periodi. Quindi io in questo momento sto guardando su una media a 5 periodi e una a 20. E per il momento ancora non vediamo un segnale di rialzo sul mercato. Però sto guardando quello che è Netflix specificatamente. Perché appunto, vi faccio vedere, ho venduto due opzioni, due put su Netflix. Che adesso sono state, diciamo, i profitti sono adesso realizzati perché il mercato è chiuso. L'ho messo in scadenza appunto a venerdì. Con appunto un totale netto, tolte le commissioni, 228 dollari. Sono sempre in demo, eh. Quindi appunto vi faccio vedere quella che è la situazione. Adesso questa verrà pulita poi la dashboard. La chiusura è stata qui, mette 258. Come io avevo detto. Poi tra l'altro c'è anche il grafico che non vi faccio quasi mai vedere. Ma c'è il grafico comunque anche sulla piattaforma stessa. Basta che clicchiate sul sottostante che vi interessa. Poi andiate qui su grafici. Ma penso che questo l'avete già visto da voi. Comunque, situazione del portafoglio. È quella di una liquidità di 11.060 dollari. Che appunto adesso è andata a sbloccare tutto. I margini sono stati di nuovo liberati. E quindi ho un valore di rivoluzione netto che è uguale alla liquidità totale. Perché appunto ho tutte le posizioni chiuse. Questo weekend sono di nuovo tranquillo. Non ho dovuto prolungare, non ho dovuto fare operazioni di assestamento. Fortunatamente ovviamente. Adesso la prossima settimana andrò a studiare altre situazioni a partire da lunedì. Cercando appunto di ragionare sul fatto che il mercato è fortemente a ribasso. Questo che cosa ci permette? Lavorando su opzioni e vendendo opzioni, essendo la volatilità molto alta, soprattutto a ribasso, le opzioni vengono pagate molto bene. Quindi se siamo abbastanza previdenti da metterci con uno strike molto basso, riusciamo comunque a ottenere un profitto in un mercato a ribasso senza avere troppo rischio. Ovviamente se dovessimo incappare in un crollo verticale, a quel punto subentrerebbe comunque un fattore di studio più fondamentale. In base a quello che siamo andati ad acquistare potremmo venire assegnati e potremmo fare determinate altre operazioni. E questo dipende molto da dove e come stiamo operando. Per quello c'è lo studio iniziale su quale tipo di azioni conviene prendere, su quale sottostante andare ad operare. Questo era il recap, il riassunto di com'è andata questa settimana. Come vi ho già detto continuerò con questo riassunto settimanale perlomeno fino al 8 dicembre, vedendo appunto sono partito da 10.000 se avete eseguito dall'inizio e sto vedendo come sta procedendo. Il tutto, ho studiato una strategia che ho imparato da Emanuele Bonanni. Trovate tutti i riferimenti con 4 video introduttivi gratuiti a questa strategia direttamente in descrizione a questo video. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video sul trading online. Ciao!